Oggi vi mostro un'altra squadra che potete creare con meno di 100.000 crediti formate da altri due campionati che sono Liga Santander e Serie A D. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento con FIFA 21 da parte di Giano P-GMR dove oggi vado a mostrare un'altra squadra come nel video precedente formata da altri due campionati. Nel video scorso vi ho mostrato una squadra Bundesliga Premier League, questa volta vi mostro una Liga Santander Serie A Team che potete creare con meno di 100.000 crediti. Ma prima di tutto vi invito ovviamente a lasciare un bel like e inoltre vi anticipo che stasera sarò in live su Twitch a partire dalle 11.30 a mezzanotte con ovviamente l'apertura dei pack, quindi i premi Rivals e Foot Champions e poi inizieremo la VL insieme. E poi ovviamente se volete consigli su squadre e altre cose sono a completa disposizione. Detto questo continuiamo con la squadra che vi vado subito a mostrare che è questa qui. Eccola qua, come modulo ho scelto il 4-3-3 un pochettino più difensivo ovviamente in base ai giocatori che ho inserito col CDC. Partiamo dal portiere Gigi Donnarumma, portiere 85, conosciamo benissimo, stile intesa base, assolutamente va bene così. Difensore del suo stesso club, quindi il Milan Romagnoli, che non è assolutamente male, intercettazione 86, lettura difensiva 88, forse solo un po' la precisione di testa. Però con lo stile intesa ombra questo giocatore diventa un pochettino ovviamente più veloce perché da 68 l'accelerazione passa a 78, velocità scatto 82, quindi assolutamente buono. E poi ovviamente se va ad aumentare anche la difesa. Come il suo compagno di reparto che è Militao, giocatore che conosciamo benissimo, buggato, con ombra va a 87 di accelerazione, 89 di velocità scatto. Un giocatore velocissimo, difensivamente diventa veramente forte, infatti è uno dei difensori più buggati del gioco. Terzino sinistro, Teher Nandez, terzino fortissimo. Io invece di mettergli ombra, gli metterei motore per aumentargli l'equilibrio, quindi l'equilibrio andrebbe, se non erro, a 71 perché aumenta di più 10 e poi aumenta l'agilità, mi sembra di più 5, quindi va a 80. Quindi in questo caso per Teher Nandez, stile intesa, motore. Terzino destro, scelto Carvacal del Real Madrid, un altro giocatore molto molto buono, un buon passaggio corto, anche in questo caso gli metterei o ancora o ombra, però sempre meglio ombra che gli aumenta di più la velocità. Infatti va a 89,90 di velocità scatto. I tre di centrocampo che ho scelto sono Marcos Llorente dell'Atletico Madrid, giocatore abbastanza veloce, qui come stile intesa di mettere motore per aumentargli soprattutto l'equilibrio, che a centrocampo è molto importante, ma come in tutti i reparti per me è importante l'equilibrio. Vicino troviamo Casemiro, questo è un giocatore che parecchi di loro scartano perché magari è poco veloce, è poco agile, però questo giocatore qui, soprattutto nel FIFA 20, a me mi ha aiutato tantissimo. Giocatore che fisicamente è molto molto forte e a volte a centrocampo per me non serve sempre il parametro della velocità alto, ma serve soprattutto la forza fisica e anche un buon passaggio. Visto comunque lui a livello di passaggio 84, passaggio lungo 84, anche il corto, va bene in un centrocampo. Come interditore intercettazione troviamo 87, infatti questo con ombra va ad aumentare di velocità a 70-79, quindi non male per un centrocampista. Se vado ad aumentare soprattutto i parametri della difesa, che già sono abbastanza alti per questo giocatore, quindi non sottovalutiamo Casemiro perché a centrocampo è un giocatore molto molto importante. Almeno per me che comunque l'anno scorso ci ho giocato molto, nel FIFA 20 ci ho giocato molto con questo giocatore. Ultimo centrocampista è Nain Golan, giocatore molto forte quest'anno. L'anno scorso pure l'ho provato, però l'ho avuto per poco tempo, però quest'anno lo vedo molto forte anche perché quando me lo trovo contro è un giocatore veramente molto difficile da affrontare. Come stile intesa ombra per aumentargli di più la velocità, quindi va 81-81 e aumentargli tutti i parametri della difesa. I tre d'attacco Carrasco, Carrasco l'ho scelto un po' per la bandiera perché è la bandiera del Belgio come Nain Golan e Mertens, quindi per trovare l'intesa quasi massima. E anche perché è un giocatore molto veloce, abbastanza agile, qui come stile intesa motore per aumentare l'equilibrio che è il parametro più bassino. A destra troviamo Irving Lozzano, giocatore molto molto veloce, molto agile, anche in questo caso motore o falco per aumentargli anche la forza fisica a questo giocatore. E infine troviamo Driz Mertens, anche lui bandiera del Belgio che va a fare intesa con Carrasco. Anche questo giocatore qui, stile intesa o falco o cacciatore se vogliamo il massimo della velocità. Come alternativa a Mertens c'è Romelu Lukaku, altro giocatore molto forte fisicamente perché lo troviamo a 95, quindi è un giocatore che comunque riesce a mantenere molto l'avversario alle spalle. Solo che c'è pochissimo di equilibrio, quindi in questo caso lo mettiamo direttamente cacciatore per aumentargli tutta la velocità, quasi tutta la velocità diciamo al massimo. Che uno stile intesa può dare. Oppure motore che gli va a aumentare quell'equilibrio a 46 che è troppo troppo basso per i miei gusti. Quindi io in questo caso preferisco più Mertens che è un pochettino più veloce, più agile che Lukaku. Però Lukaku anche quando me lo so trovato contro, ma quasi sempre fatto gol perché è un giocatore che mantiene molto molto bene l'avversario. Molto importante in questo caso è l'allenatore perché qui andiamo a mettere un allenatore di serie A team per dare l'intesa massima quasi a tutti. Quindi intesa 99 ma è 100 perché ovviamente dobbiamo cambiare il parametro a Nainggolano come anche a Mertens da AT ad ATT. Quindi intesa 100. Quindi questa è una squadra formata da due campionati che sono Liga Santander e Serie A Team che potete creare con meno di 100.000 crediti. Ribadisco questa cosa perché questa squadra è un boost punto per chi vuole creare una squadra per iniziare a competere con pochi crediti. Quindi per chi ha pochi crediti può iniziare a creare una squadra di questo genere. Ovviamente per chi piace questi due tipi di campionati. Detto questo io vi ringrazio per avermi seguito. Mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale YouTube, di seguirmi stasera è live su Twitch e di seguirmi su Instagram. Se volete un consiglio e merito, se volete che vi creo una squadra e quant'altro scrivetemelo nei commenti. Per tutto il resto ci sono i link in descrizione di canali YouTube, Instagram e Twitch. Grazie mille e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!